Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla FIPILI dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Sulla diramazione per Pisa invece rallentamenti ancora per traffico intenso tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Uno sguardo sulla 15 dove si consiglia prudenza a causa di un incidente avvenuto al chilometro 71 tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulle raccordo Siena-Firenze si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti e scambi di carreggiata tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano con chiusura dello svincolo di San Casciano in entrata in direzione Siena. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Firenze-Santa Maria Novella e regionali potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Un viaggio!